E' il momento del nostro sondaggio del lunedì, vediamo subito cosa succede nella fiducia per i leader. Renzi perde ancora un 1% a 34, Salvini sale di 1 a 22, anche Berlusconi risale a 17, Meloni 15, Grillo meno 2 a 12, a fianco di Alfano, Vendola 9. Questa è la situazione che prefigura anche quello che è successo nell'analisi sulle intenzioni di voto per lista. Il PD perde l'1,4% al 36,5, SEL guadagna lo 0,1, altri di centro-sinistra perdono lo 0,1. Forza Italia guadagna l'1% a 15,9, la Lega Nord l'1,1% al 12,5, Fratelli d'Italia lo 0,1 al 3,7. Guadagna lo 0,4 il NCD più UDC al 3,4%, il Movimento 5 Stelle perde l'1,1% al 18,5, altri 4,3 meno 0,1. Ma c'è un altro dato importante nel vedere che le coalizioni, ma questo è un calcolo matematico che era stato facile da fare, cambiano. Come vedete le proporzioni in questo modo, scende al 41,7 il centro-sinistra, sale al 35,5 il centro-destra, posto che l'NCD poi ne farà mai parte. Movimento 5 Stelle al 18,5, altri 4,3. Dicevo di un altro dato, quello della stensione, 41,2%, forse mai così alta da quando esistono queste rilevazioni, più 3,1%. Effetto, come dire, imitazione di quel che è successo nelle regionali? Non lo sappiamo. La bianca è al 2,1, indecisi 17,2%. Come dire che soltanto 4 su 10 hanno espresso una preferenza in vista di ipotetiche elezioni, che poi come sappiamo tanti ipotetiche non sono, molti parlano di un possibile ritorno alle urne in primavera. Masia, che sta succedendo? Beh, la situazione è molto magmatica e l'elettorato in questo momento è fortemente deluso e disorientato. La disaffezione è molto alta, forse per imitazione dell'ultima regionale, forse per gli ultimi dati sulla disoccupazione, forse per lo scetticismo sullo jobs act. Il fatto sta che noi registriamo un stensionismo anche di sinistra, in questo caso piuttosto elevato, per cui la stensione in questo momento ha superato soglia 40. Renzi sta facendo molta fatica nel suo consenso personale e paga il PD in questo senso, abbiamo visto il PD sotto 30. Ecco, scusi, la interrompo Masia, perché qualcuno dice, ma come ho letto stamattina sul Corriere della Sera sotto 50 e qui siamo già a 34, non è che mezza giornata è crollato, è che ci sono, come dire, indicatori diversi tra lei, tanto per intenderci, e Pagnoncelli, no? Sì, sono metodologie di rilevazione differente, per cui portano a risultati che nelle dimensioni sono differenti, ma come sempre i sondaggi devono indicare delle tendenze, dei trend, e mi pare di capire che in entrambe queste rilevazioni c'è una tendenza in calo per quanto riguarda il Premier, quindi il segretario del PD, al contrario c'è una forte ascesa di Salvini, che si vede anche nel fortissimo consenso della Lega, che, sottolineo, incomincia ad avere delle percentuali interessanti anche nel centro-sud Italia e nelle isole. E questo è un segnale certamente nuovo e importante per il partito, che ormai è il più storico partito italiano tra quelli che stiamo a rilevare, forse assieme al Partito Socialista. Va bene, grazie, allora ci vediamo lunedì.